Ciao a tutti da Deborah, oggi sono qui per parlarvi di questo apparecchio che è il nostro anticellulite vacu, praticamente come funziona? Serve per andare a lavorare sugli anestetismi della cellulite, funziona tramite una tecnologia vacu, quindi di suzione, praticamente basta aspirare l'aria e in questo modo crea un effetto massaggio sulla pelle, particolarmente sulle zone critiche che noi sappiamo bene quali sono, cosce, fianchi, braccia e andando ad lavorare in questo modo aiuta a, come posso dire, a eliminare un po' gli anestetismi della cellulite, a tonificare la pelle, a ristabilire un po', aiutare la circolazione in modo che non ci sia questa ritenzione idrica che poi causa la cellulite, io ve lo consiglio vivamente, l'ho provato, è veramente piacevole, non fa male, tra l'altro come potete vedere ha diverso, ha un tasto per la regolazione dell'intenzione, quindi si può andare a lavorare in maniera più leggera o più pesante ed è veramente favoloso, è un'idea nuova di Dixa24.com e vi arriva come al solito con spese di spedizione gratuite, mi raccomando non lasciatevelo scappare, sicuramente sarà una cosa che sfrutterete veramente piacevolmente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!